Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e l'opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. In questo video vi parlo di pallacanestro, una difficilissima serata in Eurolega per la Virtus Bologna, che infatti era in trasferta al Pireo contro l'Olympiacos, contro una delle migliori squadre della manifestazione più importante europea, e ha perso. Ha perso in maniera robusta, ha perso in maniera rovinosa per 117 a 71, ovvero una sconfitta di 46 per 46 punti di scarto. Perdere vale sempre 0 punti in classifica, che perdi di 1 all'ultimo secondo con rimpianti per un errore arbitrale, o che perdi di 46 punti senza sostanzialmente avere mai giocato. Però credo che questa sia una sconfitta che comunque faccia male, anche se ovviamente non va a intaccare più di tanto quello che è il cammino europeo o l'andamento di una stagione che si sta facendo comunque molto difficoltosa. Per la Virtus questa infatti è la quarta sconfitta consecutiva, la squadra bolognese ora sedicesima con 4 vittorie e 8 sconfitte, in un momento veramente delicato per il basket italiano, se pensiamo che l'Olimpia è ultima, diciottesima con 3 vittorie e 9 sconfitte, vuol dire che le squadre italiane in queste prime 12 giornate hanno raccolto 7 vittorie e 17 sconfitte, Milano ne ha perse 8 in fila, vuol dire che abbiamo 12 sconfitte consecutive delle squadre italiane, che poi non è un calcolo sbagliato perché in realtà la Virtus nel frattempo qualche partita l'aveva anche vinta. Il dato è ancora più stridente se pensiamo a, invece, quello che queste due squadre stanno facendo nel campionato italiano, con la Virtus che è 9-0 e l'Olimpia 8-1, ovvero un record di 17 vinte e una persa nel campionato italiano per due squadre che stanno facendo così tanta fatica in Europa. Come dicevo, e questo purtroppo fa capire quanto sia basso in questo momento anche, probabilmente, il livello della nostra LBA. Perdere di così tanto non incide, non determina una stagione. Io ho sempre un ricordo della mia gioventù che mi rimase in mente quando nel 92 la Benetton di Peroscansi andò a giocare proprio sul campo della Virtus, dell'allora Knorr, e perdette per 103-69. Un risultato che sembrava eliminare la Benetton da propositi di titolo o da essere una squadra competitiva ad alti livelli e alla fine la Benetton vinse quel campionato. Sono incidenti di percorso. Però non è la prima volta che la Virtus in trasferta prende una sconfitta così netta, il ricordo è sempre la partita del Partizan, certo non era oggi la partita da vincere perché l'Olimpia Cos è di un altro pianeta, l'Olimpia Cos ha giocato una partita perfetta il 76% da due punti, il 56% da tre, il 76% della lunetta, ha servito 33 assist per i 40 canestri che ha realizzato mentre invece Bologna ha risposto con un 54 da due, un 31 da tre, 71 dalla lunetta, 24 rimbalzi, quindi 32-24 a rimbalzo 20 palle perse, il dato ancora peggiore del meno 46 della sconfitta è il meno 100 nella valutazione l'Olimpia Cos ha 159 di valutazione, la Virtus 59, è veramente poco, non c'è realmente mai stata partita l'Olimpia Cos è partita, ha cominciato la gara a 200 all'ora, difendendo benissimo già i primi minuti, i primi secondi di gara hanno fatto capire un po' il disastro complessivo della serata Miki nella prima azione d'attacco in vantaggio per un facile appoggio, si è fatto stoppare facilmente da dietro Jaité ha commesso un fallo su Fall, che non era fallo, perché era fallo di Fall in attacco e non era fallo di Jaité, ma comunque nel giro di meno di due minuti o poco più, attorno ai due minuti ha già commesso due falli, dimostrando una volta di più di essere forse in questo momento non all'altezza del ruolo di centro titolare di una squadra di Eurolega e poi soprattutto Ojeleje che era ritornato con anche una buona determinazione suo, il primo canestro della squadra dopo il primo time out chiesto da Coach Scarioro si è infortunato e è uscito zoppicando, andando direttamente negli spogliatoi e più tardi anche per Paiola c'è stato un infortunio per cui penso che queste possano davvero essere le note più pericolose e più difficili di una squadra già tanto martoriata dagli infortuni però al di là di quello penso, la cosa che non mi è piaciuta comunque è stata l'avversario più forte ci sta di perdere, ogni più cosa ha giocato con un ritmo ha giocato con questa capacità di trovarsi un Bezenko fuori categoria ha avuto nove giocatori in doppia cifra di valutazione nella Virtus che ha avuti soltanto due l'Unipiacosta è stato un meccanismo perfetto Barzocas è un allenatore splendido e ha messo in piedi un gruppo che quest'anno penso l'anno scorso è arrivata a un passo dalla vittoria quest'anno penso possa essere assolutamente una delle squadre più accreditate per poter vincere la manifestazione però un pochino più di lotta, un pochino più di battaglia va bene perdere la partita sono d'accordo che non cambi niente nella stagione sono d'accordo che non è questo il livello della Virtus però fa un po' male vedere una sconfitta di questo genere da parte di una squadra che comunque appunto in Italia è al comando è una squadra non credo così scarsa certo c'è un momento difficile di Lundberg in questo momento uno dei migliori nelle prime giornate un vincente l'abbiamo sempre definito uno dei giocatori che mi ha più colpito in questo inizio di stagione sta facendo molta fatica penso sia stato anche in questa occasione uno dei peggiori insieme appunto a JT che ha fatto qualcosa di buono soltanto poi nel secondo tempo quando però la partita era completamente oramai andata e non c'erano più grandi difficoltà il primo tempo è finito 61-35 c'erano già 26 punti di scarto ho sempre atteso in questa gara prima o poi un minimo di reazione quella pugna, quella voglia un pochino più di ritornare ma oggi non c'è stato proprio modo e anche la ripresa è finita 56-36 altri 20 punti di scarto d'altra parte la Virtus mi aveva colpito favorevolmente anche per la prestazione offensiva nella bellissima partita di Varese di domenica dove però aveva subito 100 punti che sono molti rispetto a una squadra che per ora aveva fatto proprio dell'intensità difensiva uno dei migliori elementi di questa stagione invece qui proprio non c'è stato niente non c'è nessuna voce da salvare in questa serata è una gara da cancellare da cercare di prendere gli insegnamenti che se ne possono trarre credo che anche per la società ci sia qualcosa da fare sul mercato perché il problema del lungo credo soprattutto per l'Europa sta diventando troppo difficile oramai 12 partite stiamo andando nella seconda metà del girone d'andata e non si vedono reazioni da parte di JT Bako ha avuto dei buoni dati è uno degli unici 2-10 punti 7 rimbalzi però anche lui in una partita oramai andata e quindi credo che comunque Bako non possa essere poi il centro titolare di una squadra di Eurolega meno ancora che JT l'unico giocatore mi è piaciuto un po' l'impegno di Wibbs e poi Michi 12 punti 5 su 11 ma niente che abbia veramente cambiato l'inerzia e devo dire un pochino sincero sono professionisti e ci mancherebbe altro sono impegnati hanno fatto il massimo che potevano che oggi è stato proprio poco però anche nel finale magari gli abbracci queste cose insomma un po' troppa come dire quasi prenderla alla leggera poi è un modo solo questo non significa niente non è che che potessero magari fare cose diverse però mi è sembrata una squadra oggi poco tonica e questa cosa mi è dispiaciuta spero proprio che ci sarà una reazione la settimana prossima è molto importante finalmente gioca tre partite in casa consecutiva Scafatti in campionato però c'è Coach Kaya quindi una Scafatti che sarà sicuramente rilanciata per quanto ha due successi in classifica fino ad ora per cui non credo sia una partita particolarmente complicata e poi in Eurolega c'è prima l'Alba e poi il Maccabi l'Alba è ultima insieme all'Olimpia quindi è una partita assolutamente da vincere il Maccabi è lì con sei vittorie e sei sconfitte e proprio i confini della zona playoff quindi è una partita assolutamente da vincere e sono curioso di vedere soprattutto la reazione che avrà la squadra sia da un punto di vista emozionale sia da un punto di vista del gioco fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questa gara come avete vissuto questa partita questa esibizione e che sensazioni vi ha lasciato io sono un po' perplesso devo dire questa sera sono non riesco ancora ad avere un'idea chiara devo ancora per pensarci riflettere un po' su questa gara mi ha lasciato molto molto perplesso e sono rimasto colpito da un meraviglioso Olimpia Costa fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale l'appuntamento alla prossima e ciao a tutti da Lox l'appuntamento alla prossima